Sono coraggiosi, un po' folli e temerari e nessuno provi a contraddirli perché sfidare il mare la mattina di Capodanno con temperature bassissime non è cosa da tutti. Per fortuna ieri il sole ha accompagnato gli impavidi che si sono tuffati in mare o in un fiume per il tradizionale bagno del primo gennaio. Come nella capitale con il tuffo nel tevere di Maurizio Palmulli in arte e mister ok, bagnino di Castelfusano che da 29 anni inaugura l'anno nuovo lanciandosi da Ponte Cavour. Anche ieri il 64enne ha sfidato con degli amici le temperature e l'acqua gelata per una iniziativa diventata ormai tradizionale. Così come sono abituali i bagni nel mare al Lido di Fano di Eleonorano Tarangelo, la professoressa che ama immergersi nelle acque marine in ogni stagione considerando questa attività benefica sia per l'effetto distensivo che curativo del corpo. Quest'anno insieme a Mister Ok e altri temerari hanno pensato di dare allo stesso modo il benvenuto al 2017, ma nel mar Adriatico dove c'è chi ha deciso di festeggiare in costume. A Pesaro sono stati ben 42 i coraggiosi che hanno fatto un bagno in mare nella spiaggia di Ponente a fianco della Rotonda Bruscoli. Con parrucche, cappelli o costumi natalizi non si sono fatti intimorire dai solo 8 gradi di temperatura. Ad applaudirli centinaia di curiosi, poi alla fine uno spuntino e un brindisi per tutti.